Buongiorno signori, buongiorno. Vi sono mancato? No, voi non mi siete mancati proprio per il... Sto scherzando, allora scusatemi se non ci sono più vlog. Un attimo che accendo la luce perché... Sì, va bene così. Mi ero preso strabene per i vlog, cioè davvero mi piacevano tantissimo. Andavo, facevo i vlog con Ziad, con Momo... Tranquilli, Ziad ha sempre quel 2 in matematica... Ha 2 in tutto in pratica, però vabbè, lasciamo stare. Però io sono positivo, ho il covid. Fortunatamente adesso non ho più sintomi gravi e tutto, ma prima era un po'... Stavo davvero tanto male, avevo febbre e cose così, anche problemi. Vabbè, il peggio è passato. Grazie a Dio, non c'è nessun... Non c'è nessun problema. Però non posso vloggare perché non posso uscire, non posso incontrarmi con Momo, non posso incontrarmi con Ziad. Sono chiuso in camera da più di due settimane circa. Sono in camera, ho il mio bagno, Ziad non vive più in camera con me, l'abbiamo cacciato via di casa. E quindi chiedo scusa se non sto postando vlog. Il fatto è uno, perché io ho gli iscritti morenti. Abbiamo 25.000 persone che sono iscritte al mio canale e solo in 10 mi li guardano i video. Quindi vi chiedo, vi supplico di attivare la campanellina perché magari è quello il problema. Non lo so, però non credo perché comunque i vlog me li guardano in 20-10 persone su 25.000. È brutto, però vabbè, ci sta. Quindi per adesso niente vlog. Io ho il tampone il 9 di giugno, quindi tra circa tre giorni. Tra tre giorni ho il tampone. Spero sia negativo perché appena è negativo fidatevi. Vedrete bei vlog, belle cose e spero vi piacciono. Voi continuate a supportarmi, signori. Continuate a fare quello che state facendo e non vi dimenticate di me. Perché sapete benissimo che se io non posterò per magari questa settimana o la prossima o quello che è, magari YouTube mi manda un po'... Cioè, non riesco neanche a più fare le 10 visualizzazioni che facevo. Cioè, non lo so. Prego, attivate le campanelline e seguitemi su Instagram perché lì faccio quello che mi succede durante la giornata. Magari come Ziad mi passa il cibo da sotto. Questo qua era per farvi sapere, perché comunque ci sono persone che mi hanno chiesto con me, non posto i più vlog, mi mancano i vlog perché non è... Questo qua è un video risposta perché ho un attimo stoppato il fatto dei vlog, il fatto dei video. Spero vi piacciono, andate a riguardarli se non li avete ancora visti. Mettete like a questo video anche se non vi è piaciuto perché questo qua è un video di Merti. Attivate la campanellina e niente. Grazie ragazzi. Grazie a tutti.